Musica Sei la strada che mi porta a casa Fuori da me Buonasera Allora siamo fuori dalla saletta stiamo aspettando Gillo e colui che ci dovrà aprire anche la saletta Com'è il colorito? No ci sono Faccio quattro volte il mi Quattro volte il sol Quattro volte il mi Cinque volte il do Questo è il termine tecnico è quattro volte il do Se sto qua a sottolineare che dobbiamo fare gli ottavi No cosa su quarti Guarda guarda Fai la parte finale Io non faccio tarara dai io faccio solo Le parti dovranno essere precise Anch'io faccio come lui Solo te fai tarara Ma da quando? Ma sai cosa vuol dire? Sto seguendo una dieta da due settimane Lo faccio per Sarà il fuoco per il primo live Sarà uno filtrino così le groupies Ve lo vorranno succhiare C'è veramente ragazzi Chi cazzo mi ha dato il basso in mano? Per me la più difficile E' sempre cinema Ciao 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 soffrendo stasera perché non posso assumere altro allora la dieta dissociata che fa Gillo consente, gli consente, di mangiare tutto quello che vuole tranne i carboidrati io mangio tutte le merda che erano poi dite che si beve una bella dipende quanto ne beve il problema è che se ne bevo una bella e poi mi vede voglia di birne altra prende un po' più brutto e non bere, non passa più prende un'acqua tonica, vaffanculo ma nooo se alla fine si può fare una stavulgine o no? si può fare lui ha detto giugno un saluto per i diari l'importante è esserci e basta sta musica abbiamo qui Fabio del Piovernock Amantello cioè non so se mi spieghi sono a dieta fa un bevuto bellissimo ma lo vedi come sono i toni? capelli di latta bello i vintage violence sono come un bicchiere di buon rossi più invecchiano più sono buoni grazie un saluto umido ai diari della saletta non ci dovete più far pagare i concerti che cazzo questa è già una buona cosa grazie a tutti 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 grazie a tutti